Ragazzi, forse, e dico forse, la telenovela è finalmente finita qui. La UFC ha annunciato che il match andrà avanti. Sigla e vi spieghiamo le condizioni. Allora, partiamo dalla notizia più importante. Il match è ufficiale, è stato confermato dalla UFC, è stato ufficializzato dalla UFC e sarà un catchweight a 195 libri e rimarrà ovviamente il main event di UFC Vegas 41. Quindi questo è l'accordo che è stato trovato. La notizia è stata riportata per primo da Kevin Aioli di Yahoo Sports. Quindi, il match è confermato. Il perché del mio forse iniziale era soltanto perché ovviamente Paolo Costa ha accettato di rientrare nel peso delle 195 libri, che ricordiamolo sono 10 in più rispetto al limite consentito dalla categoria pesi medi, però sapremo se effettivamente potrà rientrare in quella categoria di peso, potrà rientrare in quel peso soltanto domani quando salirà sulla bilancia. Ed eventualmente dovremo anche vedere se poi appunto la commissione atletica del Nevada, come dicevamo nei giorni scorsi, lo riterrà in uno stato di salute, in uno stato di forma ottimale per combattere. Quindi, chiaramente domani avremo il risponso finale, però al momento il match è ufficiale confermato dalla UFC, ripetiamo, riportato da Kevin Aioli di Yahoo Sports per primo. Quindi, al momento la telenovela sembra chiusa. Domani poi ci sarà l'aggiornamento sulla bilancia, però Marvin Vettori contro Paolo Costa va avanti grazie a Marvin Vettori, è bene specificarlo, che ha fatto un favore non soltanto a noi fan italiani, ma ai fan della UFC di tutto il mondo, perché questo è un signor main event che Paolo Costa ha in parte macchiato, ma che andrà avanti grazie a Marvin Vettori. Quindi, appunto, il match va avanti, un catchweight a 195 libre, rimarrà sempre 5 round, sempre il main event di UFC Vegas 41, e ci aspetta un match con ancora più hype di quanto ci si potesse aspettare all'inizio della fight week. Ovviamente è stato un hype in parte negativo, è un po' fastidioso che il match non venga svolto nella categoria pesi medi, che è la categoria di peso in cui entrambi combattono, in cui era giusto svolgere questo match, però veramente quello che è successo ha dell'incredibile, anche il modo in cui Costa si è presentato in fight week arrogante, cercando di vigilare la frittata e di far ricadere la colpa su Marvin e sul suo team, è stato veramente un qualcosa di clamoroso. E fra l'altro Costa ha ben poco da lamentarsi, perché alla fine dovrà concedere a Marvin soltanto il 20% della sua borsa. Quindi Marvin gli ha fatto un favorone, la UFC gli ha fatto un favorone che non si meritava, ma fatto sta che, appunto, il match andrà avanti, catchweight a 195 libre, Marvin prenderà il 20% della borsa di Costa per questo match, e domani, dopo il peso, ci riaggiorneremo, sperando che Paolo Costa non ci giochi altri brutti scherzi. Iscrivetevi al canale, lasciate un like al video, fateci sapere ancora una volta che cosa ne pensate, anche per quanto riguarda la questione della borsa, del match, di cui Costa, appunto, perderà soltanto il 20%, e ci riaggiorniamo, appunto, entro le prossime 24 ore, anzi, prima ancora. Ciao ragazzi, grazie!